La Regione salva gli uffici postali nelle zone disagiate. Dovevano essere 198 gli uffici interessati e 172 quelli da chiudere. Alla fine le chiusure si sono ridotte a sole 74. In altri 58 vi sarà una riorganizzazione, con la riduzione nell'orario di apertura, ma gli sportelli resteranno aperti e funzionanti. Un buon risultato, secondo il presidente della Toscana Enrico Rossi, perché si sono scongiurati i tagli che erano stati annunciati in estate, suscitando immediate proteste da parte della popolazione. La scelta si ripercuote naturalmente nei comuni della Piana di Lucca. Su tutta la provincia, dei 22 uffici interessati dal piano iniziale, ne chiuderanno effettivamente 13, mentre per l'apertura ridotta da 3 diventeranno 4. A Capannori dovevano essere 3, secondo il piano iniziale, le chiusure, mentre si è risolta soltanto ad una. Piano invariato invece per Pescaglia, con la chiusura di due uffici e l'apertura ridotta di uno. In sostituzione dei 74 uffici postali che Poste ha confermato di voler chiudere entro la fine dell'anno, arriva da marzo il servizio gratuito Ecco Fatto, in accordo tra regione e comuni, dove saranno impegnati i ragazzi del servizio civile, il mondo del volontariato e gli uffici comunali. Il servizio costituirà il presidio sostitutivo che la regione, assieme ai comuni, attiverà dove non vi saranno più sportelli. Sorpreso e amareggiato si definisce l'assessore provinciale Francesco Bambini, che ha preso dalla stampa la decisione di chiudere i 13 uffici postali. È inconcepibile il fatto, si legge in una nota, che l'accordo sia stato raggiunto tra regione, poste e sindacati, senza che i territori siano stati coinvolti. Il nuovo piano salva nove uffici, ma rimangono comunque molte le frazioni penalizzate. E il servizio sostitutivo ipotizzato non risolve certo il problema.